e salva a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial oggi come oggi il 70 per cento dei computer nel mondo utilizza windows 10 il sistema operativo di casa microsoft è al momento il più usato sul pianeta windows 10 è disponibile in più versioni ma molti utenti non conoscono le differenze proprio per questo motivo ho deciso di realizzare questo video in cui vi spiegherò le differenze tra windows 10 home e windows 10 pro analizzando nello specifico le caratteristiche che contraddistinguono queste versioni aiutandovi così nella scelta finale partiamo innanzitutto dal prezzo il costo della singola licenza di windows 10 home sul sito della microsoft è di 145 euro mentre per quanto riguarda windows 10 professional il costo è di 259 euro il costo è sicuramente troppo elevato per gli utenti comuni però se avete intenzione di acquistare ugualmente la licenza originale di windows 10 home o windows 10 pro al miglior prezzo presente sul mercato vi basterà collegarvi su mr key shop troverai ovviamente tutti i link in descrizione per chi non lo sapesse mr key shop è un'azienda italiana che opera in questo settore da oltre 15 anni e ad oggi conta più di 250 mila utenti soddisfatti a sede sia in italia che a londra e fornisce supporto per privati e aziende gratuitamente da lunedì al venerdì ma comunque una volta giunti sul sito individuato il prodotto che desiderate acquistare in questo caso scelgo windows 10 professional aggiungetelo al carrello cliccate su ve la cassa e nel box presente sulla destra inserite il codice promo web 10 inserendo questo codice promo avrete un ulteriore sconto del 10 per cento sul costo finale della licenza dopodiché cliccate nuovamente su ve la cassa effettuate la registrazione qualora non abbiate già un account e procedete al pagamento dopo pochi secondi dell'acquisto riceverai via email la licenza di windows 10 con tanto di istruzioni dettagliate sulla procedura da eseguire un'altra differenza tra windows 10 home e windows 10 pro è indubbiamente la quantità di memoria ram supportata dal sistema operativo windows 10 home supporta fino ad un massimo di 128 gb di ram mentre windows 10 pro supporta invece fino a 2 terabyte questi sono valori che vanno ben oltre la media visto che il 75 per cento dei computer da gaming nel mondo monta al suo interno dagli 8 ai 16 gb di ram per quanto riguarda le funzioni nella versione pro abbiamo in esclusiva alcune aggiunte come ad esempio il bit locker che è un programma integrato in windows 10 ideato dalla microsoft con lo scopo di proteggere o meglio crittografare il disco fisso presente all'interno del computer oppure una pendrive usb o un disco esterno un'altra funzione che è presente in entrambe le edizioni di windows 10 ma con funzioni aggiuntive nell'edizione pro è la possibilità di controllare a distanza utenti separati in remoto senza ostacolare il loro schermo nella versione pro di windows 10 abbiamo anche hyperview che è una funzionalità che vi consente di creare e gestire delle macchine virtuali sul proprio pc questa funzionalità vi dà la possibilità di virtualizzare sul vostro computer più sistemi operativi senza dover effettuare obbligatoriamente il dual boot per chi non lo sapesse il dual boot è una procedura che vi consente di scegliere al momento dell'avvio del computer quale sistema operativo avviare in parole povere grazie a questo strumento potete utilizzare due sistemi operativi come ad esempio windows e mac nello stesso momento su un solo pc un'altra funzione utile disponibile nella versione pro è l'application guard incluso in microsoft edge questa è una funzione che aiuta ad isolare i siti malevoli o comunque non attendibili caricandoli in una sorta di sandbox proteggendo così la tua navigazione ad internet e il tuo pc da potenziali minacce minacce un'altra funzione utile che troviamo soltanto nella versione professional di windows 10 è una sandbox già inclusa nel sistema operativo la sandbox è uno strumento che vi permette di seguire applicazioni poco attendibili scaricare file e visualizzare siti web sospetti in un ambiente sterile sicuro ed isolato da tutto il resto a differenza dell'application guard che copriva soltanto quel determinato browser questa sandbox invece si estende a tutto il sistema operativo altra differenza sostanziali che troviamo in windows 10 professional è la presenza di strumenti come l'editor dei criteri di gruppo locale la gestione dei dispositivi mobili e tanto altro queste ultime funzioni possono tornare utili per lo più alle aziende e per questo motivo ho deciso di non studiarle nel dettaglio come ho fatto con le altre viste in precedenza in questo video abbiamo quindi analizzato le differenze tra le due versioni di windows 10 ovvero la pro e la home prendendo in considerazione le differenze di prezzo le funzionalità principali ed anche quelle secondarie adesso vi bastare decidere quale versione acquistare in base a quello che avete ascoltato e appreso da questo video detto ciò ragazzi il video è giunto al termine vi ricordo che per qualsiasi dubbio o incertezza non dimenticate che ci potete contattare attraverso i nostri gruppi ufficiali potete farlo sia tramite il nostro gruppo facebook che con gli altri gruppi social a nostra disposizione come ad esempio il nostro gruppo telegram se vuoi rimanere sempre aggiornato unisciti al nostro canale telegram e seguici su instagram vi invito inoltre a lasciare un bel mi piace al video commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presenti lì di fianco così da non perdervi i miei prossimi video detto ciò il video è giunto al termine ci vediamo ad un prossimo video ciao